Aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura delle sindrome mieloprofilerative, divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e promuovere un'assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie. Sono stati i tre temi portanti del convegno scientifico sulle sindrome mieloprofilerative croniche e neoplasie ematologiche rare promosso a Gela dall'AIPAM territoriale BIOS preseduta da Giacomo Giurato. L'evento internazionale è stato patrocinato dalla regione Sicilia e dal comune di Gela. Il soggetto che si rivolge a voi e scopre di avere una patologia grave al sangue, che tipo di atteggiamento assume e qual è il vostro atteggiamento? Innanzitutto bisogna dire che la diagnostica delle malattie è cambiata notevolmente. Oggi abbiamo la capacità di identificare molto correttamente questo tipo di malattie e abbiamo delle terapie che agiscono in maniera specifica sugli meccanismi molecolari della malattia. Quindi quella che una volta veniva vista come un percorso ineluttabile verso la progressione di malattie oggi può essere gestita, interrotta, rallentata con delle nuove terapie che però richiedono un'alta specializzazione. Questo rappresenta comunque una grande speranza per i nostri clienti, per i nostri pazienti ovviamente. Quindi c'è molto ottimismo. Al convegno ha partecipato anche un gruppo di pazienti tedeschi guidati dal coordinatore nazionale per il rapporto con l'estero dell'AIPAM, Peter Lerker. Questo gruppo di pazienti tedeschi ha voluto scegliere la nostra città per condividere con noi questo momento importante di scambio di informazioni scientifiche ma soprattutto uno scambio di emozioni, di sensazioni, di come ognuno di noi vive la malattia. Quindi lo scambio di queste informazioni aiuta moltissimo. Poi la presenza di luminari come il professore Barosi, il dottore Consoli, il dottore Accurso che è venuto da Palermo, gli amici di AIL che hanno voluto offrire questi opuscoli per i pazienti hanno reso ancora più importante questo convegno. Ma l'elemento più importante veramente di questo appuntamento è la presenza dei pazienti. Quali sono le nuove frontiere della scienza, della medicina per sconfiggere, fronteggiare queste patologie per poter dare una speranza a chi soffre di queste malattie? Sono i nuovi farmaci. In queste malattie abbiamo nuovi farmaci che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti, hanno migliorato alcuni sintomi ma non sono ancora in grado di migliorare significativamente la sopravvivenza di questi pazienti. E quindi la speranza, lo sforzo che viene fatto è quello di sperimentare nuovi farmaci che possono chiaramente migliorare la sopravvivenza dei pazienti. E la seconda è usare anche in queste malattie il paradigma della medicina di precisione. È quella di usare le caratteristiche molecolari e genetiche del singolo paziente per tagliare sul singolo paziente la terapia. Relatori e partecipanti al convegno scientifico hanno visitato i beni archeologici di Gela. Perdonate se io faccio sempre poi delle escursioni in altri campi che è quello di far conoscere la città, anche questo pur nell'argomento abbastanza particolare e triste però il fatto che venga affrontato qui da noi ci mette anche questo tra tanti altri argomenti in una posizione di affrontare questioni per guardare in alto e non guardare alle piccole cose purtroppo di tutti i giorni che ci attaragliano.